Questa settimana Jonathan Biabiani è il protagonista di InterNOS. Scrivi le tue domande a Biabiani via mail a interchannel chiocciolainter.it, via sms whatsapp al 342 721 0185 o via twitter a chiocciolainter underscore channel. Farsi trovare pronto quando il mister ci chiama è importante lavorare ogni settimana per far vede che ci siamo anche noi che possiamo dare una mano alla squadra è molto importante. Giovedi sera alle 21 Biabiani risponderà a voi tifosi solo su interchannel. Prova interchannel a soli 4 euro per sette giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando vai su sky.ito chiama all 199 100 200 prova interchannel e poi scegli.